Per questa nuova storia di salute che cambia siamo in compagnia di Nader Butto, medico, cardiologo, lavora al Rabin Center Medical Center in Israele, in angioplastica, ma è anche un ricercatore di fama internazionale, porta in tutto il mondo il suo metodo basato sulla teoria, sulla medicina integrata unificante. Quello che Nader dice sempre è io vorrei che queste conoscenze fossero integrate nel campo della medicina e della psicologia per trasformare quelle che erano nozioni filosofiche, mistiche in nozioni matematiche e scientifiche. Ci stiamo riuscendo? Secondo me sì, secondo me sì perché in realtà tutto è cambiato e la mentalità della gente anche c'è un'apertura incredibile, non è come quando ho cominciato tutto questo negli anni 90 non mi credevano le persone, mi guardavano un po' strano, però io ero sicuro che questa sarà la direzione del futuro e oggi stiamo assistendo veramente un'apertura addirittura negli ospedali dove aprono reparte di medicina integrativa, addirittura hanno aperto un ospedale per la medicina integrativa e questo è buon segnale perché alla fine il sistema sanitario sta soffrendo da un disagio economico molto forte per il fatto che le spese e il consumo delle risorse economiche diventa ogni volta più pesante per il sistema e quando le persone sono meno soddisfatti, quindi qualcosa che non funziona bene e le persone cercano qualcosa che è più a cuore, più di anima, più di cose che va ad andare da un medico che magari lo ascolta, che chiede domande attenenti alla sua vita e non solo dare una ricetta di un farmaco o mandarlo dalla specialista. Si, oltretutto si sa dalle statistiche che aumenta la vita media ma il numero di patologie, il numero di malattie croniche, infatti è un aumento continuo e le previsioni che nel mondo occidentale nel 2025 il 50% delle persone avranno almeno una malattia cronica e questo certamente non importa se tratta di ipertensioni o obesità o diabete o altre malattie croniche, il fatto che noi non siamo riusciti a curare queste malattie, questo è il motivo che le malattie croniche sono in aumento, quindi questo è già indicazione che qualcosa che non funziona, non è possibile che siamo riusciti a fare una buona medicina e allo stesso tempo vedere più gente malata. Tra l'altro il 90% delle patologie sono di origine sconosciuta per cui ci abbiamo capito poco diciamolo, e quindi la tua curiosità nel voler ricercare, nel voler capire meglio. Infatti ho cominciato a chiedere domande, ma cos'è la malattia? Dove c'entra qui la psiche? Come mai ci siamo trascurato, abbiamo trascurato completamente la psiche? E poi guardando la psicologia ho detto, ma qui anche hanno trascurato la spiritualità, dove lo spirito, dove l'anima? Quindi quello che ho fatto in realtà aggiunge, ho aggiunto la dimensione psicologica alla medicina e la dimensione spirituale alla psicologia, per avere un quadro che integra corpo, psiche e anima insieme, perché io non sono il corpo, io sono un'entità spirituale che sta usando questo corpo per esprimermi e sono venuto a questa vita per fare l'aggiornamento. Quindi il corpo è il mio strumento, ma non sono io, non mi identifico con il mio corpo. Chiaro che devo tenerlo in un buon stato funzionale, quindi devo mantenere la salute del corpo fisico, però quello che controlla il corpo è l'anima. Quindi se il corpo si ammala perché qualcosa si è andato male nel programma che controlla il corpo, e questo si chiama l'anima. E va male quando si creano una dissonanza fra l'anima e il corpo per conflitti psicologici non risolti, non elaborati e non completato il processo di apprendimento, che è la cosa più importante di tutto questo processo, è stato mancato. Sì, io vorrei fare un passetto indietro e introdurre il concetto del campo elettromagnetico, proprio parlando di informazione, il concetto di informazione che diciamo è la base delle nuove teorie sulla medicina. Quindi l'informazione che porta l'anima è caratteristica, caratteristica di ognuno, che può essere influenzata dalla psiche appunto e che ha delle ripercussioni sul corpo. Quindi giustamente bisogna vedere il percorso dell'informazione. Infatti questa informazione viene presa proprio dall'anima e l'anima come non solo un campo elettromagnetico, perché anche il campo elettromagnetico c'è qualcuno sopra che lo controlla e questo si chiama il campo magneto elettrico. Il campo magneto elettrico è la somma di tutti i campi elettromagnetici di tutte le cellule di tutti gli organi. Si emergono insieme per formare un unico campo con due poli e questo campo che ha un ordine perché la polarità in diverse parti di questo campo è precisa. Di conseguenza ogni parte del nostro organismo si trova sotto l'influenza di una parte di questa polarità che dà l'input al codice genetico, quale parte del codice genetico sarà espresso e quale parte sarà represso e questo si chiama epigenetica. Quindi l'epigenetica oggi sta entrando ogni volta in più. Non sono ancora arrivate a pensare in termini di anima che controlla l'epigenetica. Sono arrivati a capire che ci sono dividiatori chimici che vengono mandati alla membrana della cellula e questo mandano dei segnali dentro il citoplasma per arrivare al nucleo e per arrivare al DNA per decidere quale parte del codice genetico sarà espresso. Però certamente dietro a questi segnali chimici ci sono segnali magnetici che dirigono l'attività elettromagnetica della cellula. Beh sappiamo che il DNA è un'antenna che riceve e trasmette. Sì, però l'antenna non è diretta, nel senso che non è direttamente chi riceve dal fuori, ma ci sono dei mediatori che arrivano dal fuori, che vanno a agire su sostanze chimiche, che vanno a agire sulla membrana e dalla membrana ci sono delle proteine che connettono fra fuori e dentro e questi mandano segnali elettromagnetici al nucleo, al DNA. Allora lì questi segnali vengono poi captati che provocano mitilazioni, accelerazioni, come se fosse un manico della mano. Se viene scoperto il manico, il DNA viene espresso. Se si copre, allora viene espresso. Esatto, così funziona sulla struttura tridimensionale delle proteine che vengono alterate per l'alterazione del campo magnetico. Quindi è la dissonanza dell'informazione, la dissonanza di questo campo magnetoelettrico, elettromagnetico delle singole cellule che quando non è in coerenza con quella del corpo, comincia ad attivare una parte che non è attenente a quella parte, per esempio una cellula del fegato che sta ricevendo segnali che non appartengono al fegato, comincia a produrre proteine che non sono attenenti alla cellula del fegato. Allora comincia ad essere cellule malate e di conseguenza noi andiamo a concentrare i nostri sforzi nella cellula malata senza capire che in realtà la cellula malata è solamente l'ultimo segnale del problema, non è il problema stesso, è la nostra spia che c'è un problema e dobbiamo tornare alla radice, alla causa che ha modificato l'informazione del campo per provocare la manifestazione di un cancro, per esempio. e quindi ritorniamo al conflitto psicologico che può essere un evento inatteso, molto intenso e probabilmente come dice lei c'è anche un terreno già con poca energia per uno stress cronico, ci sono entrambe le cose, c'è uno stato energetico di vitalità cellulare che insomma si è sciupato man mano e poi c'è l'evento. L'evento stesso crea uno stato di stress che consuma l'energia, cioè il consumo energetico anche è una conseguenza di uno stress cronico dovuto a una presenza di un conflitto che crea questa dissonanza, la dissonanza crea una interferenza d'onda distruttiva, quindi l'onda del campo magnetoelettrico va a distruggere l'onda delle cellule riducendo la sua vitalità. Quindi la vitalità è la base del funzionamento del sistema difensivo, perché possiamo definire salute come uno stato di risonanza fra il campo, che sarebbe il campo magnetoelettrico e il corpo fisico, nel quale il sistema difensivo è in grado di affrontare i stimoli esterni o interni in maniera efficiente per riportare lo stato di miostasi. E la miostasi è uno stato di equilibrio dinamico nel quale il sistema funziona in pieno ordine con le minime spese energetiche. E questa è la cosa giusta, cioè quello che non consuma energia, almeno il consumo energetico per mantenere tutto funzionale, questa è la cosa giusta. Quindi quando c'è invece una dissonanza si consuma energia? Certo, si consuma energia. La presenza di dissonanza, da una parte il consumo energetico, difendisce la malattia, quindi la malattia viene definita come uno stato di dissonanza fra l'anima e il corpo, nel quale il sistema difensivo non è più in grado di affrontare gli stimoli esterni o interno in maniera efficiente per riportare lo stato di miostasi. Quindi abbiamo dissonanza da una parte, abbiamo mancanza di vitalità dall'altra parte, tutti e due insieme porta alla manifestazione della malattia. E questo ha delle conseguenze molto importanti perché se sappiamo questo fatto vuol dire che possiamo anche controllare le persone apparentemente normali, sane e individuare che sono quelli che sono a rischio per ammalarsi ancora prima della manifestazione della malattia, perché la discesa energetica non si manifesta come malattia finché non scende sotto una certa soglia. Come il telefonino, il telefonino funziona anche se ti dice a 3% della batteria, ancora funziona normale, però al provviso sceso sotto un certo... non c'è più il telefono, la stessa cosa. Quindi tante persone si sentono normali, tutto funziona bene, però la loro batteria è scarica e ci vuole un piccolo magari stimolo come un raffreddore, come un incidente o come uno spavento e al provviso crolla tutto e si manifesta quello che era sottostante apparentemente normale. Per quanto riguarda quindi la medicina integrativa unificante, quali sono un po' le tue tecniche diagnostiche e terapeutiche? Ovviamente è difficile sintetizzarle, però... No, in realtà quando le idee diventano chiare, tutto diventa semplice anche, perché se abbiamo definito malattia come dissonanza e mancanza di vitalità e abbiamo definito che ogni conflitto ha il suo indirizzo specifico nel corpo, significa che il corpo può essere tutto vitale e tutto perfetto, solo magari il seno destro della signora, che è molto debole perché ha avuto un conflitto non sessuale con il marito, sul quale ha consumato tanta energia emotiva, e allora solo quella parte è dissonante e solo quella parte è mancante di energia. Quindi il primo punto, il primo approccio nel questo metodo che ho sviluppato è la corrispondenza fra conflitto psicologico e organo specifico. La seconda cosa è la definizione della presenza di dissonanza o risonanza e la presenza di vitalità o mancanza di vitalità. E' tutto qui, nel senso che nel momento che abbiamo individuato quale parte del corpo è dissonante, questo può essere fatto o attraverso la tecnica di ammicchiamento, che è una tecnica che ogni persona può imparare, che si sviluppa al settimo senso, nel senso che tu magari immagini la persona, si crea la sua immagine, e questa creare l'immagine è una specie di creare una realtà nella dimensione energetica e cominciamo ad interagire con questa realtà chiedendo domande e ricevendo risposte. Quindi nell'immaginare la persona, questo lo faccio anche spesso in ospedale quando mi chiamano d'urgenza, magari in pronto soccorso, che c'è l'infarto o c'è un shock cardiogenico, prima di scendere io controllo per vedere veramente se corrisponde o no e tante volte scopro cose completamente diverse da quello che dicono o apparenti perché ti dà un'altra informazione anche senza vedere il paziente. Attraverso il medico che mi sta parlando al telefono si può fare questa diagnosi perché non c'è il limite di spazio-tempo. Entriamo... È un altro stato quantico. Sì, entriamo in un potenziale quantico che contiene tutta questa informazione perché anche in noi c'è questo potenziale quantico. Quindi ho una frequenza di questo genere e posso entrare in connessione con diversi stati quantici di altre persone e chiedo le domande e ricevo le risposte attraverso l'ammicchiamento degli occhi. Quindi il primo approccio diagnostico... E questo lo possono imparare tutti? Tutti, sì. Tutti. Come imparare la ghiarra? Ci sono certi che diventano più bravi e altri meno. Dipende quanto magari uno ha questa passione per imparare la ghiarra o imparare l'ammicchiamento. Quindi questa è la prima cosa. Seconda cosa si può fare in maniera strumentale misurando il stato di stress e lo stato di vitalità della persona attraverso la misura del HRV che misura il bilancio tra il sistema simpatico e parasimpatico e la bioimpedenza che misura il flusso energetico che c'è nel corpo. Più la persona è vitale, più facilmente l'energia elettrica fluisce nel corpo. E così abbiamo definito la persona quanto sia lontano o vicino dallo stato di saluti. Perché questa è la misura. Fino al punto che ci sono dei studi scientifici che dimostrano una correlazione fra l'HRV e la mortalità delle persone. C'è una correlazione fra la bioimpedenza e la mortalità delle persone. Quello che ho fatto io è messo tutti e due le misure insieme per ottenere e distinguere fra le persone che sono molto tese ma stanno bene. Perché ci sono persone che godono lo stato di azione con l'attenzione. Questo si chiama eustress, un stress positivo che spinge verso l'azione, verso fare più cose, essere più realizzato e sentire più felici. Quindi non è detto che stressato necessariamente deve avere una conseguenza negativa. Energetica. Per questo bisogna, a parte lo stress, misurare anche la vitalità. Se con lo stress c'è verità bassa, significa che questo stress sta si consumando energia e non è più eustress diventa distress. Quindi nel definire questo abbiamo definito lo stato di base della persona. Possiamo anche misurare i punti terminali di acupuntura per stabilire lo stato di vitalità di organi specifici. In maniera che da una parte abbiamo misurato la parte generale, e dall'altra parte abbiamo avuto idea di ogni organo come è emesso dal punto di vista energetico per arrivare alla diagnosi e della correlazione fra i conflitti psicologici che hanno portato alla debolezza di certi organi. Per esempio, lo stomaco viene colpito quando c'è un conflitto inaspettato e non digerito. Mentre la milsa quando c'è un conflitto aspettato ma non accettato. L'intestino grasso quando c'è un conflitto, paura della critica. Mentre l'intestino tenue quando la persona non è in grado di distinguere fra giusto e sbagliato. Tutto il tempo in eccitazione, mancanza di decisioni. Allora l'intestino tenue è quello che distingue fra puro e non puro. Il puro viene assorbito, il non puro viene eliminato. Quando la persona non sa se la cosa che sta facendo è giusta o sbagliata, pura o non pura, allora l'intestino tenue è quello che reagisce. E così ogni organo specifico ha il suo aspetto psicologico e dietro questo conflitto si abbracceva un potenziale di apprendimento. Quindi la difficoltà nella vita viene a insegnarci delle cose. Perché in realtà noi siamo venuti alla vita per fare aggiornamento, per imparare, per crescere e evolvere. Quindi le difficoltà, problemi, ostacoli nella vita sono dei trigger, sono delle leve anche per farci cambiare e per farci evolvere. Perché una persona che sta bene, perché deve fare il cambiamento? Non fa nessun cambiamento, sta bene. Ma quando non sta bene comincia a cercare come uscire fuori da questa situazione e così impara nuove cose. E così anche completa il processo di apprendimento e va oltre, dice ho capito, ho finito questo, come un esame all'università. Appena ho finito un esame, dico va bene, adesso vado al prossimo perché devo superare anche il prossimo e anche il prossimo per poi arrivare al diploma. Quindi tutti questi sono dei trigger per spingersi, per fare, evolvere e crescere. Di conseguenza il nostro approccio verso i problemi cambia completamente, cioè noi non diciamo importanti non soffrire, come abbiamo fatto in medicina. Infatti in medicina dice importante non avere mal di testa, non avere ulcero nello stomaco, è importante non essere triste, essere depresso, prendere questo farmaco. Tutto anti, senza chiedere ma perché arrivato a questo stato, cosa c'è dietro, quale potenziale di apprendimento c'è. E diventa poi semplice a sapere che cambiamento la persona deve fare. Perché? In realtà il nostro conflitto viene da un desiderio non compiuto. Quindi abbiamo delle aspettative e da queste aspettative ci sono delle delusioni perché non vengono compiuti, che crea l'attenzione, crea il conflitto. E questo conflitto poi, siccome Dio è generoso, ci dà lo stesso tipo di conflitto diverse volte, finché non impariamo, finché non capiamo che questo viene per servizio, non è contro di noi. Quindi il fatto di ripetere questi conflitti viene per il nostro favore. E il processo di apprendimento che c'è dietro questo conflitto, in realtà sta nella nostra necessità. Cosa vuol dire? Una persona soffre perché non ha ricevuto amore della mamma. Allora, per aiutare questa persona, dico, fammi per favore una lista di tutte le cose che ti hanno mancato della mamma. Cosa non ti ha fatto? Dice, un po' d'amore, un po' di apprezzamento, un po' di presenza, un po' di carezza, un po' di abbraccio. Ha fatto questa lista, dico, queste cose che hai scritto sono le cose che devi dare la mamma prima e poi dare ad altre persone dopo. Quindi la tua mamma è la tua maestra che ti insegna quello che devi dare con amore. E la persona che dà con amore diventa felice. La felicità dipende completamente dall'amore dato e non dall'amore ricevuto. L'amore ricevuto fa piacere ma non fa felicità. Il piacere è temporaneo, passeggero, perché tutto il tempo dobbiamo correre dietro il piacere. Appena c'è il piacere finito dobbiamo prendere un altro piacere. Mentre la felicità è permanente. Ho fatto qualcosa con amore, ti rimane soprattutto se hai fatto qualcosa di buono e non hai detto a nessuno che hai fatto qualcosa di buono. Perché questo? Perché se tu dici a qualcuno che hai fatto qualcosa di buono, ti dà un complimento. Nel momento che hai dato il complimento è convertito in un piacere. Nego. Nel momento che c'è il piacere è finito. Mentre hai fatto qualcosa e non hai detto niente a nessuno, ti rimane come felicità. E la prende con te. Questo è il proverbio arabo che dice quando arriviamo alla fine del nostro viaggio, in questa vita, con noi prendiamo tutte le cose che abbiamo dato agli altri con amore e non prendiamo niente da quello che abbiamo preso per noi stessi. Tutte le cose che abbiamo preso per noi rimangono qui. E tutte le cose che abbiamo dato con amore vengono con noi. Senti, ti posso chiedere, ma quando il conflitto riguarda la perdita di un caro, la perdita di un figlio, a noi ci sembra innaturale, per esempio. Anche se poi succede in natura. Però diciamo che è difficile da accettare, da dire, è una cosa che devo imparare. Serve a me. È arrivato perché mi serve. È difficile, dici. Infatti io ho vissuto questo in casa perché io ho perso una sorella e un fratello. Ero giovane. La prima aveva tre anni e è morta da una malattia affettiva. mia mamma è diventata depressa e piangeva del tutto. Dopo tre anni, siccome Dio non l'ha lasciato così senza prendere cura di lei, l'ha fatto perdere un altro figlio. Dopo il secondo figlio si è svegliata e dice, wow, Dio ha dato e Dio ha preso. Ha messo fede dentro il suo cuore e ha detto, questo non è il mio figlio. E' un prestito da parte di Dio che mi ha dato questo per mettere fede e credenza nel mio Dio. E così ha fatto. E' diventata una donna felice. Se non avesse fatto il cambiamento, magari poteva anche perdere un terzo figlio e toccava a me. Poi, meno male che è così. Mi sono salvato perché mia mamma ha imparato le lezioni. Quindi sono rimasto io così. E' vero che è una lezione difficile, però è proprio quello che ci insegna della nostra permanenza effimera qui. Io sono qui di passaggio molto breve, niente mio. Dato di fatto che quando arrivo al momento della morte, non dico ai figli, venite con me, andiamo a morire. No, voi rimanete, io vado. Allora ci rendiamo conto che i nostri figli non sono nostri. E se è così possiamo farlo anche prima. Che cos'è per te salute che cambia? Come possiamo aiutare chi ci segue ad acquisire degli atteggiamenti, a fare il primo passo? A fare il primo passo che è il più difficile. Perché se uno trova il percorso, va avanti. Sì, secondo me la cosa più importante è la consapevolezza che la malattia non è una punizione per qualcosa che è stato fatto male, ma è un segnale, una spia che viene a aiutarci a capire dove ci siamo deviati dal nostro cammino. Quindi di essere cosciente, consapevole che la malattia ogni segnale, ogni sintomo ti dice qualcosa. L'importante è capire questi sintomi. Chiaro che più il medico e il terapeuta è cosciente del rapporto fra questi sintomi e conflitti, diventa immediato l'intervento e anche amplificare la coscienza della persona. La persona cosciente già riesce subito a fare il cambiamento, perché finché non conosce il costo-rapporto allora vai ad agire sul dolore del ginocchio pensando che è importante non avere dolore del ginocchio. Ma dietro al costo-dolore c'è un blocco nel meridiano dello stomaco e dietro a questo blocco nel meridiano dello stomaco è stato l'incenziato dal lavoro in maniera inaspettata e non digerita. E se andiamo a indagare questo, risulta che lui non era contento al lavoro e non poteva andare avanti, addirittura voleva lasciare e loro l'hanno preceduto e l'hanno l'incenziato. Allora ha fatto il conflitto. Come dire, perché, come? Aspetta un po', ma tu volevi il lavoro? Sicuramente no. E allora non vedi che questo è venuto per aiutarti per poter cambiare? E siccome tu non hai osato di cambiare, ti hanno aiutato. È vero, dici, è vero. Wow, non ci ho pensato così. All'avviso fa senso, fa una logica nella sua testa e lo accetta molto più facilmente. Dici, veramente, se lo guardo io non ero contento al lavoro e volevo cambiare. Solo non usavo di cambiare. E adesso sono contento veramente che è successo così. Mi hanno l'incenziato loro e ho cambiato questo tipo di lavoro e ho trovato un altro lavoro che mi sento adesso molto più al mio agio. e mi sento anche realizzato. Quindi, l'essere cosciente fa gli eventi della vita con quello che sentiamo nel corpo, anche senza avere malattia. Possiamo avere mal di spalla, mal di petto, dolore nella vancia. Tutte queste cose sono sintomi. Andiamo a fare... Il 90% delle persone che arrivano pronti a soccorso fanno tutti gli esami e non hanno niente. Però soffrono. Allora, lì, perdiamo l'opportunità per intervenire e risolvere. Perché dice il medico, guarda che non hai niente, ho fatto tutti gli esami, non hai niente. Non ha capito che questa è una spia importante come la spia della benzina che si accende molto prima che la benzina esaurisce. Quindi, noi andiamo a trascurare questa spia mettendo un cerotto sopra e dire che non hai niente perché questa spia ti dà fastidio. Prende qualcosa per coprirla, prende questa fastidia e non avrai più il dolore del genocchio. Per poi apparire più tardi un problema più grave di salute e cominci ad avere anche un problema non solo del genocchio ma anche dello stomaco. Allora, dici, ah, dello stomaco perché hai preso antinfiammatori contro i dolori del genocchio e ti ha fatto questo problema dello stomaco. Quindi comincia a dare anche antiacidi per contrastare quello che è stato fatto con gli altri farmaci. E così andiamo correndo dietro i sintomi per supprimire questi sintomi che sono importanti. Nel dare importanza nei primi fasi soprattutto quelle che arrivano al pronto soccorso che hanno il problema che hanno il dolore che hanno il fastidio lì dobbiamo intervenire per curare queste persone perché già non entrano più nella definizione di godere un buon stato di salute che viene definito come stato di risonanza possiamo anche tornare alla definizione di salute come stato di benessere completo fisico, psichico e sociale dell'OMS da una parte e definire anche il benessere come stato d'animo nel quale la persona si sente in grado di realizzare i suoi progetti nella vita con un senso d'amore felicità e libertà quest'Italia che cambia non puoi fermarla ormai quest'Italia che cambia siamo noi